It began as a holiday, eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch. Bentornati e ciao Alessandro. Ciao Giulia. Archiviata la parentesi dedicata agli Oscar, l'occasione di questa nuova puntata ci viene data dall'uscita attesissima del trailer del nuovo film di Wes Anderson, autore che amiamo moltissimo e dunque è proprio l'attesa di The French Dispatch che verrà presentato a Cannes quest'anno al Festival del Cinema, ci dà l'occasione di andare a riscoprire questo regista, questo autore e i suoi tratti fondamentali. Anche io non vedo l'ora che esca questo film, mi ricordo che avevo visto insieme a te The Royal Tenenbaum, stiamo parlando del 2001 e da allora io e te siamo fan di Wes Anderson, aspettiamo sempre con gioia ogni suo film e molti li abbiamo visti insieme. Stiamo parlando di uno dei registi più originali e più riconoscibili in circolazione insieme a Tarantino, a Fincher, a Bong Joon-ho, sono registi che hanno dei tratti distintivi e oggi noi proveremo a decodificare Wes Anderson. Quello che aspettiamo sarà il suo decimo film, Anderson ha compiuto l'anno scorso 50 anni, quindi una buona media direi di lungometraggi realizzati. Beh a 50 anni aver fatto 10 film è una carriera straordinaria, peraltro un regista che come i grandi, come per esempio Sergio Leone, continua a rifare lo stesso film o meglio perfeziona il suo stile, la sua estetica e le sue tematiche avendo a disposizione risorse illimitate. Ecco diciamo che se alcuni dei suoi maestri ispiratori avessero avuto le risorse che lui ha oggi e anche i mezzi tecnici avrebbero realizzato dei capolavori ancora più grandiosi. Wes Anderson secondo me lavora proprio al culmine delle potenzialità che l'industria cinematografica gli offre. E questo nuovo film che aspettiamo per maggio mi incuriosisce particolarmente anche perché è ambientato nel mondo del giornalismo. A quanto pare ci viene presentato proprio come una lettera d'amore ai giornalisti ambientata in un avamposto di un giornale americano nella Parigi del ventesimo secolo che è un periodo che lui ha esplorato in più occasioni, quindi deve affascinarlo particolarmente. Se in certi film lui rendeva omaggio ad altre culture nazionali come per esempio l'Inghilterra o la Prussia, questo mondo mitteleuropeo per esempio in Gran Budapest hotel o in Moonrise Kingdom o anche nel delizioso cortometraggio Castello Cavalcanti lui rende omaggio a tutto questo immaginario italiano degli anni 50 che ha una forte influenza felliniana ma attinge proprio anche alle riviste illustrate italiane di quegli anni, alla Mille Miglia. In questo nuovo film lui rende omaggio a un grande regista francese che è Jacques Tati. Alcune immagini del trailer sembrano proprio riprese da alcune inquadrature di Jacques Tati e questo rende questo film ancora più delizioso e atteso perlomeno da noi. Se non sbaglio lui vive a Parigi oltretutto, è texano di origine ma vive in Europa e questo forse traspare anche questo amore per la storia europea, un ambiente così ricco di storia come quello che lui racconta nei suoi film. Senz'altro Wes Anderson ha una cultura enciclopedica, ha una sensibilità molto europea, lui comunque ha antenati scandinavi, svedesi perché il cognome Anderson comunque è un cognome molto diffuso in Svezia e non a caso io a lezione lo associo sempre a Roy Anderson che è un maestro del cinema svedese il quale anche lui utilizza come forma espressiva fondamentale la macchina fissa e una costruzione simmetrica dell'immagine che è uno dei tratti distintivi che Wes Anderson ha preso dal maestro giapponese Yasujiro Ozu e infatti se devo dirti quali sono le culture che lo influenzano di più io ti direi Francia, Italia, un po' la Mitteleuropa, un po' la Vienna di inizio di inizio novecento o fine diciannovesimo secolo e poi sicuramente il Giappone. Questo film direi di partire allora da quello che abbiamo potuto scoprire dal trailer che di per sé è un piccolo capolavoro racconta in realtà quattro storie in una, infatti lo spunto arriva dalla morte del direttore di questo giornale The French Dispatch, occasione nella quale i suoi colleghi decidono di pubblicare un'ultima edizione memoriale riproponendo le tre storie migliori degli ultimi dieci anni e infatti sono proprio anche caratterizzate da colori, da epoche, da scenografie del tutto diverse l'una dall'altra. Questo è proprio tipico di Wes Anderson, un altro aspetto che caratterizza il suo universo narrativo è di creare dei microcosmi che sono incastrati in una serie di scatole cinesi. Se ti ricordi anche in Gran Budapest Hotel c'era questo gioco di scatole cinesi con addirittura tre cornici che contengono la storia del film che è ambientata negli anni trenta ma viene raccontata poi dal protagonista ormai diventato l'anziano proprietario dell'hotel negli anni sessanta Jude Law che interpreta lo scrittore protagonista del romanzo Gran Budapest Hotel e autore di quel romanzo di cui poi vediamo la statua nel cimitero. Quindi ci sono tre livelli narrativi, tre cornici e tre formati diversi dell'immagine addirittura. Quindi Wes Anderson non solo ha questa vocazione enciclopedica, questo interesse ad accumulare migliaia di oggetti e di dettagli nelle sue immagini ma proprio a raccontare anche tante storie e sono storie corali piene, affollatissime di personaggi, di eventi, di oggetti e di dettagli. Ecco quindi partiamo dalla Parigi degli anni venti, la sede di questo French Dispatch dove si trova la redazione di questo giornale, la scenografia è parecchio evocativa. E certo perché c'è tutto l'immaginario parigino, questo giornale è ispirato all'età dell'oro del New Yorker, questi anni cinquanta, sessanta e i colori sono tipici di Wes Anderson cioè sono colori pastello, colori un po' desaturati. Wes Anderson come tutti i grandi registi lavora con un senso dell'immagine pittorica, cioè togliendo colori dall'immagine e lavorando con pochi colori dominanti. In questo caso questo trailer è una vera delizia per gli occhi perché sia dal punto di vista della composizione sia dal punto di vista dei colori le immagini sono ricchissime. Sembrano piatte come dei dipinti, in realtà sono molto stratificate con tantissime cose che accadono in primo piano, in secondo piano e sullo sfondo e con questa composizione simmetrica che in questo caso è anche un po' decadente perché ci sono questi edifici sporchi della vecchia Parigi. In realtà poi non è ambientato a Parigi, ma è ambientato in questa città francese che non mi ricordo come si chiama. E noi sur blasé? Se ci pensi Wes Anderson, una delle sue caratteristiche, questo è proprio un elemento di creazione di mondi, cioè del world building che gli anglosassoni sanno fare molto meglio di noi. In tutti i suoi film ci sono ambientazioni fittizie che però sono verosimili. Sto pensando all'isola di New Pansans in Moonrise Kingdom, oppure anche appunto Castello Cavalcanti in Italia che ricostruisce un pochino questi borghi toscani che ancora oggi sono completamente conservati, oppure la Repubblica di Zubrovka in Grand Budapest Hotel o ancora la megalopoli giapponese di Megasaki che è la città dove è ambientata l'isola dei cani, l'ultimo film che lui ha fatto in stop motion. E a proposito di cura per il dettaglio, al secondo numero 6 del trailer abbiamo un movimento molto classico e ricorrente in Wes Anderson che parte dal vassoio tenuto in mano da uno dei personaggi e si allarga ad un'inquadratura più ampia. Ecco, l'inquadratura che sarebbe il retro del palazzo in cui è a sede il giornale, riprende tale quale una famosa scena di mio zio, di Jacques Tati, film del 61, in cui Jacques Tati tornando a casa in questo vecchio quartiere di Parigi ci fa vedere appunto questo palazzo con tantissime finestre, scale e scalette e lui in una coreografia proprio eseguita al millimetro e entra e esce da queste finestre come se fossero delle inquadrature dentro l'inquadratura più grande del film. C'è poi un momento poetico che forse è l'inquadratura che io preferisco di tutto il cinema di Jacques Tati dove il suo personaggio Messie Oulot, un personaggio strampalato però un personaggio colto e sensibile, tornando a casa si accorge che inclinando la finestra in un certo modo lui riesce a fare riflettere la luce sulla gabbietta di un uccellino al piano di sotto in ombra e quindi nel momento in cui lo illumina l'uccellino si mette a cantare ed è una gag magnifica che ci dimostra tutto il talento che aveva Jacques Tati nel design del suono perché lui costruiva le sue colonne sonore a partire da zero e addirittura riusciva a farti ridere più con il suono che con l'immagine e questa cura anche per il suono l'ha ripresa lo stesso Wes Anderson. E c'è poi anche questo elemento ricorrente dell'ambientazione in uno scenario un po' da la casa delle bambole. Sì, l'idea della casa delle bambole è ricorrente, anche questa non l'ha inventata Wes Anderson ma l'ha presa da altri registi che l'hanno fatta prima di lui, sto pensando per esempio a un film di Jerry Lewis, L'idolo delle donne, in cui si vede proprio questo palazzo delle donne, questa casa che è come se fosse vista in sezione e la macchina da presa viaggia da un piano all'altro, ma Wes Anderson ama molto anche gli spaccati, cioè le vedute in sezione per esempio della casa di Moonrise Kingdom o per esempio del sommergibile di Steve Zizou, questo mondo che in inglese si dice cutaway world, tra l'altro io vi segnalo che c'è un bellissimo sito che raccoglie tutte queste immagini, queste illustrazioni di qualsiasi oggetto o edificio da un carro armato al sommergibile alla cattedrale vista in sezione, che è una cosa che ci piaceva fare da bambini perché da bambini ti ricordi che vedevamo questi grandi libri illustrati e passavamo le ore a sognare e a esplorare tutti questi bellissimi edifici in cui vedevamo la vita delle persone nello spaccato magari di un castello medievale, ecco e Wes Anderson ha ripreso tutti questi elementi dell'infanzia e li ha trasformati proprio nel suo stile estetico, quindi questa cosa di vedere gli edifici in sezione con i personaggi che ci vivono dentro è una cifra stilistica tipica sua. Ma questi come vengono realizzati, cioè viene effettivamente costruita la sezione di un palazzo? Ebbene sì, per esempio nelle avventure acquatiche di Steve Zizou lui ha ricostruito grandezza 1 a 1 il sommergibile di Steve Zizou per poterci giocare dentro. Quando io vedo un film di Wes Anderson penso proprio alla grande fortuna che ha questo Peter Pan del cinema che a 50 anni si può permettere, meritandoselo, di creare questi giocattoloni enormi per la sua gioia e per la nostra gioia. Wes Anderson utilizza questa palette diciamo Art Nouveau, quindi colori pastello opachi, molto tenui, colori da inizio secolo, creando sempre dei contrasti tra tonalità calda e tonalità fredde, ma l'immagine è molto poco contrastata. Questo consente l'inserimento di tantissimi dettagli e infatti lui usa molto anche le riprese dall'alto che sono riprese appunto a volo d'uccello che ti consentono di vedere una stanza, una città o una scena con tutti questi dettagli che mette in scena lui. Adesso stiamo guardando per esempio la cucina di una di queste storie perché il protagonista di una di queste storie è un cuoco. Io cerco di leggere il meno possibile, so che c'è un cuoco ma non so cosa succede, ma già solo vedere la sua cucina ecco mi verrebbe voglia di stamparmi questo fotogramma e fare un poster perché ci sono tutte le pentole con il cibo dentro e gli strumenti d'epoca, la caffettiera, i coltelli, il pane, le creme, i vassoi, i tegami, le cassette di frutta. Sembra proprio la casa di una bambola. Cioè sembra proprio è il desiderio di un bambino o una bambina perché comunque quest'anno c'è anche un gusto un po' femminile in questo che diventa realtà, che diventa cinema. E le altre storie quali sono? Un artista condannato all'ergastolo per un doppio omicidio, la pagina dedicata alle rivolte studentesche e poi quella che dicevi tu prima, un rapimento risolto da uno chef. Ognuna mi sembra caratterizzata da una sua palette di colori leggermente diversa. E probabilmente anche un'influenza cinematografica diversa perché per esempio la parte ambientata in Francia la vedo molto influenzata così occhio dalla Nouvelle Vague, so che Wes Anderson ama molto i registi della Nouvelle Vague e so che considera appunto Truffaut uno dei suoi maestri esattamente come Tarantino considera Jean-Luc Godard uno dei suoi maestri più importanti. Si vedono anche delle influenze felliniane.